Come si fa a scegliere la postazione migliore in cui posizionarsi per effettuare la nostra rotta di pesca? Principalmente si parte analizzando la stagione in cui siamo, quindi sappiamo che siamo in autunno, le trote saranno tendenzialmente abbastanza a galla, quindi il vento diventa un fattore abbastanza fondamentale nella scelta, nel senso che dovremmo metterci nella sponda su cui il vento batte, quindi anche in questo caso abbiamo scelto la direzione in cui va il vento. Poi non conoscendo il lago, la domanda fatta al gestore che spesso risulta disponibile come in questo caso, ci dà il consiglio migliore, ci dice dove nei giorni precedenti sono state effettuate catture con maggiore regolarità, quindi questi due fattori hanno fatto sì che io scegliessi questa postazione di pesca per questa giornata come punto di partenza. Grazie a tutti!